Ma dove sei finito? In un mare in tempesta. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa mi sono sottoposto a chirurgia bariatrica. Ho battuto obesità, steatosi epatica, diabete, ipertensione, apnee notturne e molto altro. Da allora faccio questi video per aiutare altri a trovare la loro strada e guarire dall'obesità. Supporta questo progetto, iscriviti al canale e lascia un like e lascia anche i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video il più possibile. Dove sono finito? In un mare in tempesta. Perché siamo adulti, perché ci sono delle cose che vanno affrontate, perché nella vita non tutto è sotto il nostro controllo e a volte arrivano delle onde che ribaltano tutto. Quindi tocca far fronte anche alle tempeste. Non si capisce da che parte arriverà il sole, il giorno e da che parte arriverà il sereno e sembra di non vedere mai oltre all'onda più alta che sta arrivando dopo l'onda che stai cercando di superare in quel momento. Però prima o poi arriva, prima o poi passa. E in questo mi sono reso conto di essere cresciuto molto. Perché qualche tempo fa, prima di questo viaggio in me stesso che è iniziato, da quando ho iniziato a volermi più bene e da quando poi mi sono sottoposto alla slive, a quando ho ripreso in mano la mia vita in un modo molto più sano consapevole, affronto queste cose diversamente. Le riconosco, me ne rendo conto, ne prendo atto e cerco di gestirle molto 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 meglio. Questo non vuol dire che sia più facile, non vuol dire che non mi succhino tutte le energie e il tempo e non vuol dire che mi facciano stare più tranquillo. Però per esempio ho scoperto di essere immune alla fame emotiva. La riconosco, riconosco la sensazione, ma non mi viene neanche più di andare ad aprire l'armadietto o il frigo. Nel senso che è una cosa immediata, no? Emozione? Questa è fame emotiva, che palle! Non ho fame, non mi alzo, cerco qualcos'altro. Evidentemente non l'ho ancora trovato perché sto riversando tutto, sto sommatizzando tutto in altro modo e me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho tutta la schiena, le spalle contratte, ho tutto il peso di queste onde addosso, un mal di schiena incredibile, sento a volte i muscoli della cervicale che proprio li sento, non li ho mai sentiti prima, adesso li sento che mi schiacciano giù, come se una mano mi schiacciasse a terra. E questo vuol dire che non sto gestendo veramente nel modo corretto l'onda che arriva. Però mi sembra di essere comunque bravo a gestirla, perché sto cambiando modo di pormi davanti a questi problemi, alcuni gestibili, altri inevitabili. Però è una marcia in più. È una marcia in più che mi dà la possibilità di scegliere fra più opzioni su come uscirne da questa situazione. E questo è veramente veramente fantastico. Il problema è che non sto per niente bene, sono stanco, sono distrutto, non ho tempo, devo dedicare del tempo a delle cose che non ho alcuna voglia e desiderio di fare, ma che devono essere fatte a tutti i costi. E questa cosa mi costa il doppio delle energie e soprattutto mi lascia con poca soddisfazione, perché se mi devo dedicare a gestire queste cose resta poca energia e poco tempo per le cose belle che poi ti fanno andare a letto la sera soddisfatto di te stesso. Quindi un momentaccio. E infatti sto facendo una fatica boia a trovare il tempo di fare anche le cose che faccio con amore e col cuore in mano, anche per esempio continuare a fare questi video. Avrete visto che sono passato da un paio di video a settimana, perché era un momento particolarmente easy, a farne molti meno e mi dispiace, perché è una cosa che faccio col cuore e mi manca. Ma non sparisco, è solo un momento in cui mi sto girando nel modo migliore per andare avanti. Quindi meno video, sto facendo poche interviste, ho lì una serie, una lista di persone che voglio intervistare, che hanno storie da raccontare, che voglio portarvi perché raccontino come sta andando, perché magari è già stata fatta una prima intervista e facciamo una seconda. Insomma, un mondo di idee, un mondo di cose che voglio fare e non riesco a farle. Non posso farle in questo momento. Passerà questo periodo e mi rimetterò un pochino in piedi. Non vi preoccupate. Cioè nel senso, sì, preoccupatevi se volete, se mi fa piacere sentire che siete vicini e che magari mi sostenete, fa piacere a tutti. Però se c'è una cosa di cui sono sicuro è che in un modo o nell'altro la tempesta finisce e io vado dall'altra parte. E questo mi dà un filo di serenità, perché anche se non vedo il sereno, so che arriva. Perché arriva. Pun. Per il resto, evidentemente, devo trovare una strada ancora migliore per gestire queste situazioni e quelle che posso evitare devo imparare a circumnavigarle e quelle che invece non posso evitare, forse devo imparare a prenderle con un po' più di fatalismo e lasciarle andare così. Questo sarebbe per me un ottimo, ottimo, ottimo momento per rivolgermi allo psicologo, perché probabilmente mi potrebbe dare un aiuto pazzesco a venire fuori da questa situazione. Ma non lo faccio, perché non posso permettermelo economicamente in questo momento. Sono soldi assolutamente ben spesi. E non li ho. Punto. In attesa che la tempesta si plachi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti. Al prossimo video. Al prossimo video. Al prossimo video.